Buongiorno a tutti, mi chiamo Bruno Brevi, sono il direttore della unità operativa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda universitaria ospedaliera di Pisa. Mi trovo qua per rispondere a qualche domanda inerente alla sindrome delle apnea ostruttive notturne. Una delle prime domande viene posta perché il paziente va gestito, perché c'è bisogno assolutamente che venga curato da questo problema. Innanzitutto per tutta la serie di sintomi che gli rendono la vita invalidante, che sono fondamentalmente la sonnolenza diurna, mal di testa cronico al risveglio, senso di fatica, a cui conseguono cambiamenti della personalità, ansia, depressione, diminuzione del libido, ma soprattutto poi si associano gravi ripercussioni sulla salute fisica, quindi con aritmi cardiache, angina pectoris, infarto, ictus cerebrale. Il chirurgo maxillofacciale può agire nella gestione di queste problematiche fondamentalmente con un intervento chirurgico che si svolge tutto all'interno della bocca senza accessi esterni, che consiste nella sezione della mascella della mandibola che vengono portati in avanti e che comporta quindi l'espansione delle vie aeree retrolinguali e quindi un'eliminazione di questa difficoltà al passaggio dell'aria. Un intervento che fa un po' impressione, fa paura, quindi la domanda immediatamente successiva è su quali sono i tempi di ripresa della propria attività. Sono abbastanza rapidi, in un paio di settimane, 15-20 giorni, il paziente torna al lavoro. Il ricovero è di circa 4 giorni di media, il paziente si alimenta direttamente dal giorno dopo della bocca senza sondini, ha un unico limite, diciamo per un tempo più lungo, una quarantina di giorni circa, che è quello della masticazione, quindi introduce cibi morbidi e non deve masticare, non deve forzare la masticazione. Nel rapporto costo-beneficio, sicuramente quello che è l'impegno per questa chirurgia è sicuramente molto più basso rispetto a quello che sono i benefici che il paziente può portare a casa sia appunto in termini di qualità della vita che sulle sue condizioni di salute vere e proprie. Come dicevo prima, infarti, tuss e quant'altro. Come si fa, come può fare un paziente a rivolgersi a un chirurgo maxillofacciale? Il percorso è semplice, si fa fare un'impegnativa dal proprio medico e pronota una visita presso la nostra unità operativa, una visita presso la chirurgia maxillofacciale per apnea notturne. Il paziente, quando arriva a noi, viene inserito in un percorso multidisciplinare, tutta una serie di specialisti, neurologo, pneumologo, otorino, pediatra, cardiologo, dontoiatra, chirurgo maxillofacciale, in un pool polispecialistico, valutano il paziente e viene introdotto nel percorso più specifico, più adatto alla sua problematica. Con questo vi saluto e vi aspettiamo. Buona giornata.